Venerdì 13 dicembre 2019. Mancano 18 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del sagittario. La chiesa ricorda Santa Lucia. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lucia. Il nome di origine latina significa luminosa. Il numero portafortuna è il 5, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 13 dicembre del 2003, l'ex dittatore iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit. Fu giustiziato con l'impiccagione il 30 dicembre 2006, a seguito di una sentenza di condanna a morte pronunziata da un tribunale speciale iracheno e confermata in appello per crimini contro l'umanità. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri all'attore e regista Steve Buscemi, nato a New York il 13 dicembre 1957. Diventato celebre grazie a ruoli di personaggi eccentrici e nevrotici, soprattutto nelle pellicole dei fratelli Cohen, Buscemi ha vinto un Golden Globe come miglior attore nel 2011 per la serie TV Boardwalk Empire, l'impero del crimine. Le frasi del cinema. L'amore ti umilia, l'odio invece ti culla. Dal film White O' Leander. Proverbio del giorno. Le 10p della vita. Prima pensa, poi parla. Poiché parole poco pensate portano pena. Proverbio toscano. Proverbio del giorno.